Il discernimento guidato dalla carità può essere in sintesi questo. Amare, amare e amare gratuitamente e senza chiedere nulla in cambio. Questo è il vero amore. Il vero amore è amare senza pretendere nulla. Don Lorenzo Milani diceva che nel momento in cui iniziamo a calcolare il bene che facciamo vuol dire che non è più bene perché si aspetta qualcosa in cambio. Vedete come il discernimento deve essere fatto anche sulla nostra carità, anche sul modo con cui noi facciamo bene. Perché non basta fare il bene, bisogna fare il bene, farlo bene. Perché molte volte noi pensiamo di fare bene e invece facciamo male. E lo vedremo. E non basta costruire istituti, segni, realtà di beneficenza. Per chi si è fatto? Per come lo si è fatto? Perché lo si è fatto? La carità impone a tutti di chiederci perché faccio quello che faccio. Perché è come faccio la mamma? Perché è come faccio il padre? Perché è come faccio il sacerdote? Perché è come faccio il frate? Perché è come faccio la suora? Perché è come faccio il diacono? Perché è come faccio l'uomo singolo e la donna singola nel mondo? Perché faccio volontariato? Perché è come faccio il docente, il contadino, il medico, l'avvocato, il giudice, eccetera, eccetera, eccetera. La vita, abbiamo detto, è un continuo discernimento e vivere vuol dire discernere. Allora il criterio fondamentale di questo discernimento è sull'amore, non è su quello che io posso dare a te di per sé, è su quello che tu puoi dare a me o su quello che mi può tornare da quello che faccio, no, è se io amo, se ci metto amore in quello che faccio, ed è importante. Nella mia esperienza mi rendo conto che tante persone si distruggono la vita con la rabbia, con il rancore e con il risentimento. Queste tre dimensioni della vita ci distruggono perché? Perché non siamo capaci di fare un discernimento sull'amore. È vero che istintivamente a un'offesa rispondo a tono e con un'altra offesa, ma perché quando noi incontriamo vite e testimoni, per esempio come madre Teresa di Calcutta, no, che ha amato e soltanto ha amato, ha molto sofferto e non ha chiesto mai nulla in cambio, perché tutte le nostre difese, le nostre congetture, diciamo, di pensiero, ma anche filosofiche, teologiche, decadono? Perché anche i peggiori, tra virgolette, dinanzi a testimoni come madre Teresa di Calcutta, ma ne posso citare tanti, o anche lo stesso padre Pio, hanno abbassato le loro difese. Perché l'amore ti denuda e ti spoglia, ti purifica. Ecco, un modo per poter discendere sulla vita che faccio, sul bene che faccio e sul male anche che faccio. Ma di questo e di altro continueremo a parlare domani. Ciao a tutti! Ciao a tutti!